La compagnia teatrale Antidoto in scena questa sera e domani sera. Intanto parliamo dell'evento della fiera di San Lorenzo che si svolge all'interno del teatro Antidoto. Sì, è una bella soddisfazione avere la festa di San Lorenzo, questo trittico di tre giorni, 28, 29 e 30, con degustazioni, poi ci saranno sfilate di moda, il teatro con l'Antidoto, ma comunque quelli dell'Antidoto faranno una bella commedia. Dicono che sono bravi. Ma dicono che sono bravi, comunque li dobbiamo andare a vedere questa sera, 21 e 30 non si paga, poi ci saranno le degustazioni, asseggini di vino locale, non si paga, tutto fatto in maniera perfetta anche per i bambini, ci saranno gli animali, insomma c'è da vedere 28, 29 e 30. E questo è per quanto riguarda San Lorenzo al cineteatro Antidoto, dentro e fuori. Domani sera invece c'è un evento dedicato alla solidarietà, perché voi della compagnia teatro all'Antidoto spesso vi mettete a disposizione quando c'è una causa nobile. In questo caso parliamo della piccola Naomi che tempo fa subì un incidente domestico, rimase appunto vittima di questo incidente domestico e necessita tutt'oggi di continue cure. E noi ci siamo messi a disposizione del Comitato Manfria, perché domani sera abbiamo il piacere di abbrecciare il pubblico, ma in particolar modo di abbrecciare la bambina, di avere la bambina sul palco. Ce l'hanno promesso, ce la porteranno e noi con orgoglio e con soddisfazione, perché noi lo facciamo, ma io spero che anche tanti lo facciano, anche i privati, di aiutare la nostra Naomi. Spieghiamo bene, domani sera voi sarete alle 21, alle ore 21 a Manfria con la Commedia Brillante di Guglielmo Greco, non lo faccio più. E per contribuire alla causa è sufficiente un'offerta libera, un contributo libero? Sì, basta venire lì e fare un'offerta libera. Siamo ai campi marinetti, per le persone che non lo sanno, perché Mambria ormai è diventata grande. E che dirvi, poi l'antidoto proseguirà, il 3 ci sarà un'altra serata della Gorgone a Piazza Roma e infine il Clou il 5 settembre con il premio La Gorgone. La gente lo sa, la gente deve venire, la gente ha bisogno di stare con noi, noi abbiamo bisogno di stare con loro. Emanuele, è stata davvero un'estate molto intensa, di emozioni. Il bilancio di quest'estate che bilancio è? Eccezionale, per la crisi che c'è è eccezionale.